La seconda e ultima puntata sarà trasmessa giovedì Questa sera alle 20.35 trasmetteremo Allora Stiamo cercando la nuova annunciatrice di Canale 5 Se hai un'età compresa tra i 25 e i 30 anni e sai recitare Invia le tue foto e i tuoi dati a Ufficio Casting, Viale Europa 44, 2093, Cologno Monzese, Milano O manda un'email a castingchiocciolamediaset.it Oppure telefona allo 02 27 30 13 67 Dai, puoi farcela anche tu!